Ciao ragazzi, come avete visto in questo nuovo video? Lei sta ridendo, ma cazzo lì? Cosa vuoi? It's ok, oggi vloggo la giornata a New York, perché New York, figata, cioè, sono a Starbucks, cioè, guarda che roba, guarda tutto il cibo, ingrassato proprio, cibo, Robinson, ti interessa questa parola, cibo, 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 say one thing you know in Italian, io voglio lo sesso. Allora, siamo sul, what is this called? Highline? Ok, non so esattamente come tradurre queste cose, però siamo sulla Highline, che è praticamente un ponte che va lungo New York, non lo so, cioè, sono un po' confusa, questa è la vista che in realtà non è veramente nulla, però le mie amiche hanno detto andiamo, io, ok, va bene, se non avete capito, oggi è San Patrizio. Siamo in un dinner, o diner, come lo volete chiamare, e non vedo nulla, tutto cibo americano, quindi c'è la mozzarella fritta, non so che è la mozzarella italiana, ma vabbè, ci sono i buffalo wings che sono qui, c'è un po' come, ok, oh no, non voglio zoomare, questo è il cibo americano, buffalo wings e mozzarella fritta, insalata, woohoo, 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 sì, cose normali, cioè, vabbè, aiuto. Ora andiamo a fare shopping, perché... Forever 21, forever 21, HM, forever 21, e HM, HM is H&M, just kidding, yeah, il mio negozio preferito, aiuto, ora spendo tutti i soldi, woohoo, woohoo, you found my life right here. Kill me. Oh, you should get that also. Hello Robinson. Solo ci stiamo trovando i vestiti questo per i prom, forse, forse sì, forse no, c'è... Ho spesso tutti i miei soldi, lasciamo perdere. Ciao Robinson Ciao Ora sta piovendo, vabbè Ok ragazzi, quella è la fine del vlog Perché andiamo, torniamo a scuola ora Sono tipo le 18, basta, abbiamo finito Ho preso i sushi per cenare Perché qui si mangia solo sushi, ovviamente E quindi se il video vi è piaciuto mettete un mi piace Ciao Ciao Ciao